Sì, siamo qui per fare i complimenti a tutti quelli che hanno lavorato qui per Artesella che in pochissimo tempo hanno rimesso in piedi questo luogo bellissimo che era stato fortemente colpito dagli schianti e dai danni del maltempo. Sembra quasi impossibile che in così poco tempo sia quasi tornato tutto normale. Quindi questo è un messaggio di fiducia, di speranza, ma anche di capacità qui di Artesella, di Borgo, della Val Sugana di sapersi rialzare.